Mirko Zanda con Maria Luigia Dorazio Maria Luigia Dorazio e il signor Mirko Zanda con la fascia Dolcezza e Claudia Gallo concorrente numero 3 Mamma Claudia con la fascia Dolcezza Erika, la fascia, Erika Grazie Qua Molto bene Allora, una passerella tutti e tre insieme, prego Grazie Io vorrei un applauso per tutte le mamme che hanno giocato con noi questa sera Mi auguro di poterle rivedere